e mi dispiace se non riusciamo a vedere anche a noi, vabbè, dai recuperiamo una tua foto, tu intanto tu guarda se in giro vedi da qualche parte attiva la telecamera io rischio di spegnerlo anche no, no, rimani con noi resta così abbiamo appena ascoltato Elisa con Se Piovesse il tuo nome e adesso possiamo dare ufficialmente il benvenuto all'interno di questo Open Day Cinema di Radio In ad Aldo Baglio oh, grazie ah no, adesso ti senti mi sono preoccupata, non ti sentivo, ci sei? ci sono? sì, certo quella è una foto ok, ci accontentiamo di questa in attesa che tu possa riattivare la camera ma proprio oggi che me l'ho pettinato intanto è un grande piacere Aldo permettimi di ringraziare il nostro gancio che è Giovanni Calcagno e che abbiamo visto nel trailer con una bellissima e suave parola perché ho detto una bellissima e suave che è quella di quattro lettere con la S che finisce per Uca ah ok esatto simpatico comunque Calcagno vi abbiamo seguiti in quest'anteprima di Taormina il film uscirà fra due giorni questa boccata d'aria dove tu torni nella tua terra in un veramente come una sorta di rapporto intimo un film che diciamo ancestrale direi eh sì eh sì dai raccontaci Aldo tutto quello che volete allora vi leggo la sceneggiatura no tutta dalla prima all'ultima pagina però è peggio della corazzetta Potionkin è un film fatto un po' su di me nel senso che abbiamo cominciato da zero proprio su che cosa volevo fare chi volevo essere cosa succedeva per cui alla fine si è sviluppato il personaggio ed è un film che parla di una famiglia molto simile alla mia con figli grandi in cui io sono il capofamiglia abbiamo in proprietà una pizzeria e quest'uomo fa debiti tenendo all'oscuro la famiglia e questo è l'inizio del film dopodiché cominciano i problemi ah cominciano dopo i problemi ok perché fossero quelli eh sì dopo i problemi cominciano no i problemi ci sono ci sono da subito diciamo però cominciano a moltiplicarsi perché lui pensa sempre di farcela in realtà si trova sempre impantanato sempre di più in questa storia di debiti e questo lo porta e questo lo porta in Sicilia dove ci sono delle cose che lo aspettano perché ha dei segreti ha delle bugie delle cose dei ricordi occultati insomma è un uomo è un uomo che ha seppellito nel fondo dell'anima delle cose non ne vorrebbe più parlare invece saltano fuori ed è bene che saltano fuori perché sono questi la causa della sua malattia del suo non star bene bene ok credo credo che forse ci siamo hai catturato la sceneggiatura la cerco ce la mandi come allegato se no ci puoi raccontare anche del tuo rapporto con la Sicilia rispetto al rapporto del protagonista di questo film con la sua di terra d'origine c'è qualche parallelismo? c'è c'è parlando di quest'uomo non parlando di me no 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 fra il tuo rapporto con la Sicilia e di quest'uomo con la Sicilia c'avete qualcosa in comune? no perché io amo la Sicilia l'ho sempre vista come sfogo delle mie vacanze tre quarti delle gioie che ho avute sono lì proprio parlando dell'infanzia anche perché l'infanzia intrappola i ricordi più belli per cui questa mia fierezza di essere siciliano di appartenere comunque a quella gente dopodiché appartengo anche alla gente del nord perché voglio dire mi ha ospitato è una città che mi ha dato quello che sono oggi senza Milano non avrei potuto e poi sono appezionato anche Milano perché sono sono vissuto in un quartiere che è Porta Romana dove ho incontrato anche Giovanni che insomma Milano mi ha aperto tante strade quindi è una città a cui sono molto legato anche a Wales per cui niente ho questo ho questa voglia spasmodica di vedere la Sicilia tutti gli anni di fatti vado in Sicilia tutti gli anni ma sempre nello stesso posto o cambi meta? adesso me la posso godere di più la Sicilia ci vado molto più spesso ma cambi meta oppure hai quei posti del cuore e vai sempre lì? no vabbè c'ho il mio posto del cuore c'ho il mio punto il mio bunker che sarebbe in provincia di Siracusa ebbè basta non svelare altro perché sennò finisce l'effetto bunker senti Aldo no io ho letto parecchie tue interviste a proposito di questo trasferimento a Milano e dell'accento siciliano ecco lo carico molto tu sei rimasto fedele nonostante appunto il tuo trasferimento i tuoi compagni di percorso professionali e questo ovviamente probabilmente è stato un po' un legame con la tua terra no? l'avere conservato l'accento sì devo dire che ho cercato di recuperarlo perché l'avevo perso completamente poi abbiamo deciso di fare una cosa insieme in cui dovevo fare il siciliano però dovevo trovare la caratteristica quindi mi sono come dire ho provato ho provato a trovare a cercare qualcosa che facesse un po' parte del mio carattere eccetera allora ho in qualche modo cercato di di tra i gugini eccetera quella simpatia eccetera che mi ha portato a trovare un mio aspetto sicuro senti Aldo nel preparare questa bella chiacchierata questa bella intervista in radio lo dicevo prima di iniziare ad Eliana tu hai un target di pubblico che oserei definire trasversale perché mia figlia di 18 anni prima di venire in radio mi ha detto papà ma perché non chiede ad Aldo se ci fa un bel saluto perché ieri sera in comitiva abbiamo visto la locandina che intervisterai Aldo quindi voglio dire la tua è una fascia che copre avere una figlia adolescente che ti dice papà stai facendo una cosa bella è un'occasione più unica che rara se un figlio a quell'età non ti calcola mai magari magari gli adolescenti sono quelli che faranno la differenza e mi salveranno da questo periodo che insomma non è che il cinema sta e quindi io sono molto contento che ci siano molti giovani spero che vanno al cinema anche se al cinema ci va poca gente ma probabilmente adesso senza mascherina magari magari un pochettino ecco io ho la speranza ho la speranza che lo vedano più persone possibili questo è un po' la speranza di tutti questa cosa la ricordiamo e la sottolineiamo una boccata d'aria esce dopo domani esce appunto giovedì 7 luglio al cinema quindi appuntamento con le sale col caldo torrido aria condizionata e un altro momento per respirare ci sono i pasticcini passa uno con i pasticcini le tortine le bevande tutto gratis questo non lo so ci si può lavorare si può fare qualcosa ma intanto dobbiamo trovarlo un modo per convincerci a tornare nelle sale basta con i divani basta con il guardare soltanto le piattaforme ma incontrateli venite al cinema avete qualcosa da condividere in compagnia a ridere insieme andate a prendere una boccata d'aria dentro il cinema noi dobbiamo mandare la pubblicità do puoi rimanere ancora con noi sono qui con voi torniamo fra pochissimo sempre in diretta su Radio In siamo tornati in questo momento in diretta streaming su Facebook ci sono i The Colors alla radio fra tre minuti torniamo anche in FM e della serie non ci posso credere Aldo Baglio ha attivato la cam durante la pubblicità che splendore un mito evviva ho sentito tutto riacceso e mi sono apparsi nuove icone funziona sempre spegni e riaccendi per me è l'unica soluzione che conosco ma funziona anche quindi va bene così Aldo dove sei per adesso? sono qui a Monza so che stai girando perché sei partito da Taormina di Corsa proprio per tornare sul set per cui grazie si può raccontare a cosa stai lavorando? no lavorando col film di Giovanni e Giacomo con Giovanni e Giacomo abbiamo trovato delle location qui attorno e quindi sono vicino Milano vicino casa si lavora senti con Eliana durante la pubblicità scorrevamo il tuo il tuo curriculum ovviamente da da quando sei entrato alla SIP penso a quanto siamo andati indietro non se lo ricordava neanche lui questa storia del lavoro alla SIP nel senso che che comincia un pochettino tutto da lì fondamentalmente è lì che ho cominciato mentre lavoravo in SIP poi facevo la serale poi andavo a scuola di teatro con Giovanni all'arsenale ma se tu ripensi a quegli anni lì che bello ah beh no non stavo molto bene perché comunque ero in SIP e la SIP non era il mio mestiere tanto che sono andato al capo a un certo punto dopo due anni sono andato al capo e ho detto guarda io mi vorrei licenziare e lui mi voleva bene diceva vabbè faccio minta di non aver sentito nulla se ritorni la settimana prossima con la stessa idea la prendo in considerazione beh io sono tornato convintissimo la settimana dopo e l'ho detto vabbè a questo punto se sei così convinto ma quando è arrivato il successo hai mai avuto l'opportunità però mi ci hanno licenziato e i miei genitori non erano è certo è certo senti Aldo abbiamo scelto due titoli uno e tre uomini e una gamba e chiedimi se sono felice due a caso capito due titoli che fanno la storia del cinema italiano a quale sei più legato pensaci e ci rispondi fra qualche istante così torniamo anche alla radio tu pensaci rifletti attentamente erano i decolors con Gabriele Panorama qui su Radio In ultimi minuti a nostra disposizione ma siamo in compagnia di Aldo Baglio lo abbiamo anche in video quindi se siete alla radio andate a recuperare poi lo streaming di questa diretta video sulla pagina Facebook di Radio In strappato dal set e grazie a Giovanni Calcagno per questo ponte generoso Giovanni Calcagno per me è un fratello anche per me ma non è il suo fratello nel film nel film è mio fratello è anche fuori ma senti è stronzissimo però nel film io sono andato d'amore d'accordo con lui anzi è una meraviglia è una meraviglia mi ha telefonato poco fa mi ha detto guarda poi la riascolterò e sarà sarà bellissimo poco fa hai fatto una domanda difficilissima dai riponila certo poi rimango io che faccio la domanda qual è film rimane di più nel tuo cuore tra tre uomini e una gamba e chiedimi se sono felice che domanda sì però chiaramente il punto di vista non è quello di uno spettatore quello che l'ha vissuto per cui io sono molto affezionato a tre uomini e una gamba perché lì è nato tutto e lì è esploso tutto per cui è una sorta di magia che ho vissuto noi siamo partiti con 50 coppie e gli esercenti non dicevano ma qua mi riempie la sala io non me lo tolgo sto film quindi hanno dovuto fare ulteriori copie ma è vero che vi intruforavate nei cinema per controllare come andava visto che c'era un po' di scetticismo no poi andavamo nei cinema perché magari ci invitavano e andavamo e andavamo chiaramente a li imbucavate entravamo lì all'inizio quando ormai si erano spente le luci guardavamo e sentivamo e poi a fine primo tempo ci palesavamo e salutavamo la gente però è stato proprio come dire un'emozione un'emozione fortissima quella di sentire ridere la gente in quel modo ed è una sorta di magia ma una magia che si ripete sempre è chiaro che per me il mio preferito il mio preferito è tre uomini in una gamba perché è quello che mi porto dentro comunque una magia che si ripete sempre perché io sfido chiunque ogni volta che passa anche in televisione tu magari stai facendo zapping per una cosa e l'altra penso che sia uno di quei film sul quale ti fermi e dici sarà la volta non so due milioni e non so quante e non ti stanchi male uno lo riguarda sempre sperando che magari ci sono delle cose che cambiano no 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 invece uno quelle e la gara chi si ricorda tutte le battute con la virgola esatta più o meno quello che succede nelle case degli italiani è quello ma senti a proposito di pubblico Aldo avete fatto anche tanto teatro beh insomma sì ne abbiamo fatto tanto divertendoci un sacco poi magari altune tornerano molto lunghe quindi se pensa ai corti abbiamo fatto 300 repliche io non ne potevo più a un certo punto però insomma abbiamo retto anche abbiamo retto botta nel senso che abbiamo fatto poi non so c'è per esempio uno come Arturo Brachetti che fa un milione di repliche al mese come fa? ecco se no la domanda è quella ci sono delle persone intervistiamo l'insieme glielo chiediamo io no no beh io ho fatto tanto teatro ma devo dire che dopo 100 repliche vorrei chiudere lì perché le cose poi poi insomma siamo divertiti comunque un botte senti e poi c'è questa bella esperienza che avete fatto con mai dire gol in tv con la jalapas mamma mia quella è un altro inventato di personaggi come le cose nella mia vita che che non risuccederanno più nel senso che voglio dire chiaro che ho vissuto dei momenti anche a livello storico televisivo sono entrato nel programma più bello e non sono più seguito perché era in seconda serata comunque io vedo che ci sono molto affezionati che ancora adesso se lo ricordano insomma e poi eravamo liberi di fare veramente quello che volevamo a un certo punto bisognava solo contenerci ce l'hai un desiderio ancora da esaudire nel tuo futuro professionale perché tantissime cose grandiose le hai fatte resta qualcosa guarda io non ho mai avuto dei desideri particolari quando ho cominciato a fare questo mestiere dicevo Giovanni Giovanni ci compriamo un furgone e andiamo in giro per l'Europa a fare spettacoli in piazza poi l'obiettivo è quello di tornare un pochettino con un po' di palestra e crearsi un circuito teatrale in Italia per me era quello l'obiettivo poi è andato molto meglio di così per cui che altri desideri posso avere noi ce l'abbiamo il desiderio quello di vederti al cinema e allora ricordiamo ancora una volta l'appuntamento da domani da dopo domani scusami da giorno 7 con una boccata d'aria regia di Alessio Lauria che tra l'altro ci ha taggato anche lui la nostra locandina l'ho verificato e quindi è stato bellissimo ovviamente magari se hai voglia lo sentiamo la prossima settimana anche perché noi abbiamo il debole per i registi e invece quanto pensi potremmo dover attendere per poter vedere in sala anche il nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo no a Natale a Natale wow dai quindi quindi magari proveremo a disturbarti fra qualche mesetto quando si potrà quando ci sarà pronto un trailer e ne parliamo sarebbe un grande onore per noi certo certamente grazie grazie Aldo davvero per questo regalone che ci hai fatto oggi e grazie anche a Giovanni che appunto ha caldeggiato il regalone è anche mio insomma stiamo stiamo promuovendo un qualcosa a cui io ci tengo molto figurati poi io sono sempre disponibile per insomma grazie a voi è bello è bello davvero Aldo Baglio protagonista di Una Boccata d'aria dal 7 luglio al cinema e quindi questo è l'appuntamento imminente vabbè Giovanni Calcagnolo abbiamo citato la partecipazione di Tony Sperandeo Lucia Acone Ludovica Martino Davide Calgaro tantissimi e Tony Sperandeo non possiamo non citarlo grazie ancora Aldo Baglio per essere stato con noi su Radio In Quest'Oggi oh grazie a voi ciao ciao e così chiudiamo insieme chiudiamo qui questa puntata di Open Day Cinema grazie Ivan Scinardo tantissimo vedi che bello grazie Mirko Fuvalenti in regia ciao a tutti e restate sintonizzati su Radio In ciao ciao ciao